se l'hanno fatta si accetta non sono d'accordo su tutto quello che è stato l'affronto senza problemi se si ripete effettivamente qualcosa c'è nel primo tempo mi aspettavo per anche come ho visto la squadra nell'ultimo periodo mi aspettavo una partenza diversa abbiamo cambiato tanto dietro quindi non potevamo ruotare secondo me tantissimo per non perdere riferimenti però non era una partita diciamo normale nel senso che con un campo così dovevamo fare un ciclo di partite dove si va più su seconde palle su situazioni di contrasto eccetera dove noi non abbiamo impattato giustamente la partita nel secondo tempo invece l'abbiamo fatta molto bene da quel lato inizialmente non era un cambio di modulo andava Cissé diciamo da punta esterna e con rotazione e dopo siamo andati da più però le caratteristiche di Cissé per questo tipo di partita erano ottime chiaramente se me lo giocavo al primo tempo non potevo giocando alla seconda quindi è stata una scelta faccio due domande al progetto si però non è che uno è condizionato nel momento in cui non fa magari un fallo per fermare un'azione diverso quando hai la palla tu però proprio perché io ritengo che questa gara qua fosse fondamentale non avrei dato un messaggio sbagliato tenendo fondo di Ronaldo solamente perché gli fida per giocare poi la prossima l'importante era questa qua dei giocatori importanti su queste gare qua bisogna che rispondono presente oggi magari ho avuto delle difficoltà perché andava interpretata in maniera che non è usuale le loro caratteristiche e deve essere interpretata in maniera più diretta cioè con palle più verticali salendo e accorciando la squadra cosa che è stata fatta dopo l'altra domanda è lo spirito a questo punto sei per esempio di meno 4-6 bisognava comunque giocare con un perizio di questa partita per cercare di riuscire a rientrare però ti chiedo con che spirito perché io sono un po' di me che ha fatto una gran partita però con che spirito ha fatto un po' di questa situazione? lo spirito deve essere quello di come abbiamo detto sempre cerchiamo di andare a lavorare sulle nostre cose perché si ripetono e quindi dobbiamo andare a lavorare su quelle cose là poi il resto ci vedrà e la partita la prepareremo come e meglio delle altre ma come le altre con stesso concetto di migliorare di andare a vincere e di provare a fare la partita questo è il concetto che sia sul tirolo già nel minimo noi non deve cambiare invece a volte tratti di partita cambia e questo qua è il nostro talone da chi in questo momento se non è una cosa che ti dico non ti dico ma sono perso è detto che ovviamente è stata una manifestazione perché non sei d'accordo con quello che hanno detto ma non sul punto è ovvio poi sono delle cose mie personali e che non avverranno nel senso che sono venuto qui per andare in battaglia e vado fuori e non ho la possibilità a testa alta comunque ripeto il nostro cammino sicuramente abbiamo queste due o tre partite con le squadre che sono in fondo della classifica purtroppo ricalcano un po' un light motive ed è vero quindi ne assumo io la responsabilità insieme ai ragazzi anche quelli più esperti perché è ovvio che queste cose vanno sistemate assieme però noi siamo lì adesso abbiamo lo sconto diretto siamo a meno 6 vediamo di lavorare in qualche ora che c'è questa partita che non sarà decisiva ma sarà molto importante vista c'era un primo giudizio sulla Gianna Arminio che veniva da una partita bruttissima a Serenio mi so che lei ha portato anche se va a prendere il collega con Sesto insomma l'ultima della classifica come è questa squadra ma io non sono no non mi permette mai di giudicare una squadra che si deve salvare e gioca in casa dopo due sconfitte è chiaro che deve buttare il cuore ad un altro ostacolo però non mi sento da giudizi sull'operato degli altri io do giudizi sui miei dove noi nel primo tempo siamo mancati e se il Padova fa il Padova probabilmente questa partita la potremo mancare a posto